com'è? Lavorare prodotto con queste aspettative del pubblico, con questa grande attesa, perché poi grandi ritorni, non credo che ci siano stati altri prodotti slam dunk dopo l'originale e prima di questo, se non sbaglio. Non lo so, per chi vuole, per chi lo sa. Io credo che dall'anime, so che ci sono stati prodotti tre o quattro film, ma sempre in quegli anni lì, che però erano... Dopo l'anime zero, esatto. Sì, che però erano delle storie un po' a parte, nel senso non riguardavano tanto, erano delle situazioni un po' create ad hoc dopo alcuni momenti del manga.